La tua assenza si è sentita tanto, a parte che quando sei in campo il Pescara ha sempre vinto, ma in campo sei determinante. Grazie, sono contento che oggi ci è andata bene, però c'è da dire che all'inizio si è visto che la Lucchese ci ha messo in difficoltà, però siamo stati molto bravi a ribaltare la partita subito e poi già a secondo tempo penso che abbiamo sfruttato le nostre occasioni, anche se qualcosina abbiamo sbagliato. Con la Juventus, poi un'altra partita in casa, correggimi tu, non ricordo se con Gubbio e Arezzo, il gol sul rigore, oggi altro gol sul rigore, è un piatto simile a quello della partita allo Stadio Adriatico, 5 gol, capocannoniere, ma te lo aspettavi? Non me lo aspettavo, ho fatto più gol adesso in due mesi che in tutta la mia carriera da professionista, però sono contento che sta andando bene, sia per me che credo anche per la squadra, speriamo di continuare così, adesso ci aspetta una bella partita che dobbiamo vincere. Tu sai che a Pescara ci sono già i paragoni, la situazione tua simile a quella di Raffiade, lo scorso anno è arrivato con grandi potenzialità, ha fatto benissimo e è arrivata la Serie A, il tuo obiettivo è lo stesso? Ovvio, sarebbe una gran cosa, però io sono di Tugno, lui è Raffiade, lui ha il suo percorso, ha fatto bene, sono contento per lui, spero di rifare la sua strada e fare qualcosina in più, però è molto difficile, tutti lo capiscono. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo, l'hai fatto a Carrara contro Sestri Levante, anche se le telecamere magari non l'hanno immortalato bene, ma quel gioco con suola sinistra, suola destra, suola sinistra, con i piedi e via via, quanto è difficile? Vabbè, mi è venuto così, di istinto, e poi ho riguardato un paio di volte quell'azione perché pure a me mi è piaciuta, peccato che non siamo riusciti a fare gol, però sì, mi piacciono quelle cose che mi arrivano così, di istinto. Quando ci sarà la Nazionale adesso, dopo il big match con il Cesena? O prima, no? La partita prima? Sinceramente non so, a novembre sì. C'è 9 novembre, non ci sarà? Sì, credo sì. Senza che il pescarà da fastidio.